A volte la malignità, il voler dare adito a voci sbagliate, può creare non pochi problemi. Lo sa bene Victoria Beckham e Nicola Pez. Infatti pensate che tra nuore e suocera, si tratta di due donne, vi ricordo, i più hater, i noi da tastiera, hanno diciamo così ipotizzato che tra i due ci fosse della maletta, ci fossero rapporti, diciamo così, corrotti o meglio rapporti di pura inimicissima o meglio di grande odio. Frutto di questo pseudo odio sarebbe mancato l'avvio da sposa che non ci sarebbe stato di conseguenza. Tutto sarebbe inserito da lì secondo i cosiddetti hater o meglio di un'altra tastiera. Ebbene, non si tratta di una crisi, non c'è alcuna crisi tra loro due, tra Victoria Beckham e Nicola Pez. Si tratta soltanto di mere speculazioni, da come ti ha detto sul web, che non bisogna dare ascolto. Broken Beckham va a far informare tutti, infatti, che non ci sono pessimi rapporti, chi pensa questo è semplicemente un hater o comunque un uomo da tastiera che vuole creare, diciamo così, disagio o comunque creare in situazioni di pura non malignità o comunque malignare o denigrare due persone o due donne magnifici come queste due qua. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, grazie a tutti i clienti di YouTube. Il video termina qua, iscrivetevi e commentate, dunque nessun tipo di maletta.